Come la tragica pandemia di coronavirus ci sta dimostrando, soltanto insieme e facendoci carico dei più fragili possiamo vincere le sfide globali. La lettera enciclica Laudato Si ha proprio questo sottotitolo, sulla cura della Cassa Comune. Oggi rifletteremo un po' insieme su questa responsabilità che caratterizza il nostro passaggio su questa terra. Dobbiamo crescere nella coscienza della cura della Cassa Comune.